Adam Kadmon, nel 2014 come si sconfigge il male? L'unico modo per potersi liberare da qualsiasi forma di strumentalizzazione, indipendentemente da quanto potente possa essere l'origine, è quella di portare nelle scuole, nelle famiglie, l'insegnamento del rispetto reciproco. Sembra la parissiano, sembra una cosa semplice, ma nessuno l'ha mai fatto. Insegnano tutto, ma non insegnano questi concetti basilari. Ma ci sarà sempre bisogno di un'autorità fin quando le persone non saranno educate appunto a questo valore di rispetto reciproco, perché in quel caso imparerebbero ad autogestirsi e laddove le persone cominciano ad autogestirsi, ecco che viene meno l'esigenza di un'autorità. Probabilmente, prendetelo come una fiaba, è questo il motivo per cui non viene portato questo insegnamento nelle scuole, come dico io.